Siamo arrivati con l'episodio numero 8 del viaggio Siamo arrivati con l'episodio numero 8 del viaggio Con le animazioni Non dico niente perché sono meravigliato a farmi dalla grafica Vediamo che Alex un po' Resiste un po' a ciò che suo padre gli dice Però ragazzi gli concede un pranzo insieme Questo locale anni 50 di Los Angeles sembra Dove si va già a Burger Street Food? Harold si chiama suo padre Vediamo cos'hanno da dirsi Comunque ragazzi per ora niente cambia perché comunque giochiamo nel Manchester City Siamo comunque nella scuola titolare Il allenatore veramente ci chiare A noi Credevo che saresti rimasto in Inghilterra dopo l'ai fake up L'ho fatto Ero in Inghilterra a caccia di giocatori Non poteva durare per sempre giusto? Semperebbe quasi adottato Alex Le cose non sono sempre come sembrano Alex Faresti bene a impararlo Non sono razzista Però ragazzi mi dà l'idea di Adottato Sicuramente poi io non ho giocato a FIFA 17 Quindi alcuni sapranno meglio di me Episodio dove non si giocherà questo qui Episodio di transito Che poi ci porterà All'inizio del campionato Vi spoilerò qualcosa ragazzi C'è il like e iscrivetevi Che per me è molto importante Noi siamo all'episodio 8 Dove torneremo con altre novità Ciao a tutti